Adesso andiamo al Teatro Olimpico, fino al 10 febbraio, c'è Gris, Gris, coreografia di Franco Miserio, la regia di Federico Bellone, musical nato nel 71 in un teatro sperimentale a Chicago, arriva in Italia nel 97, successi, successi, ricordiamo noi l'edizione con il nostro comune amico Giampiero Ingrassia e Lorella Cuccarini, oggi è in scena come dicevo all'Olimpico, nei panni di Danny e Sandy ci sono Filippo Strocchi e Serena Carradori, il nostro Valeriano Solfiti ha provato a farsi prenderne il cast, ha andato a fare il provino, vediamo quale ruolo, non ho capito, Valeriano Solfiti. E sono venuto al Teatro Olimpico di Roma a vedere il musical che sarà in scena fino al 10 febbraio, Gris, brillantino. Il mio sentirmi Gris mi ha portato fino a qui sul palco, dietro ci sono gli attori, i cantanti, i ballerini dello spettacolo che stanno provando, io non so ballare ma mica posso lasciarmi sfuggire un'occasione del genere. Chiara, io oggi mi sento molto Gris. Ti vedo, ci hai anche rubato uno dei nostri giumbotti. Come stanno? Bene, però si porta così, così, un po' di gelatina nei capelli e la posizione da Veroti Birds della situazione. Beh, senti pensavo per essere più Gris riesce a insegnarvi un passo, anche piccolo, piccolo. Sicuro? Proviamo. Gris già ha dei passi facili, però bisogna farli con un'energia incredibile. Dai, proviamo. Sette, otto e vado. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, spalla, spalla, passo scimmia. Senti, pensavo, fino a che non andate in scena, tipo due ripetizioni di danza, due passi. Dietro le quinte, perché loro devono continuare a studiare. Va bene, fino alle 9-5, perché poi mi devo mettere la parrucca e devo andare in scena. Va bene. Solo se mi prometti che andiamo via con la camminata da Danny Zuko. Quella un po' molleggiata, la del film, insomma. Quella che facciamo anche noi, eh. Andiamo. Va bene. Pronto? Andiamo a ripassare. Tu così mi mongi fiato, sei già dentro di me. Bella questa cosa. In bocca al lupo a Valeriano Solfiti, grazie al Teatro Olimpico Fino.